Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Scopriamo subito attraverso i titoli gli argomenti che andremo ad affrontare all'interno di questa puntata. Stati Generali della Salute, l'Aula approva il documento finale. Interrogazione sulla ciclovia dei Due Mari. Dopo l'evento conclusivo degli Stati Generali della Salute che si è tenuto nei locali del cinema la Compagnia di Firenze e al quale ha preso parte anche il Ministro della Salute Roberto Speranza, il tema sanità è stato centrale anche nel dibattito in Consiglio regionale. L'Aula ha infatti approvato a maggioranza la risoluzione della Commissione Sanità, un vademecum che analizza tutti gli aspetti della sanità toscana scattando una fotografia per dare poi degli indirizzi alla Giunta. Noi abbiamo avuto la legge di organizzazione del nostro sistema sanitario nel 2005, la legge 40, l'abbiamo vista modificare con l'allargamento delle ASL da 10 a 3, quelle territoriali, con la legge 84 del 2015 dopo 10 anni. Oggi dopo 7 anni siamo nelle condizioni di perfezionare ancora la legge, quindi andiamo in una riforma del sistema sanitario regionale cercando di accentuare aspetti che non modificano, non stravolgono l'impalcatura dell'attuale sistema ma che ad esempio possono dare una maggiore corresponsabilità ai direttori generali per quanto riguarda la programmazione, possono accentuare il ruolo dei direttori dell'ospedale, possono accrescere i poteri dei distretti visto le ASL grandi e quindi la necessità di decentrare un po' le decisioni sul piano dei distretti e contemporaneamente il tutto si accompagna a un forte ruolo della medicina sul territorio che vedrà con il piano nazionale di ripresa e resilienza la Toscana avere la possibilità di costruire nuove o adeguare 77 case di comunità, quelle che noi finora abbiamo chiamato case della salute portando il cittadino magari a trovare nella casa di comunità dove ci sono ambulatori, specialisti, farmacia, infermieri che poi operano sul territorio come i medici di base e quindi evitare di andare a ingolfare i pronti soccorsi di cui ci rendiamo conto anche in questi giorni esserci forse l'elemento di maggiore criticità del sistema. Dopo aver sottolineato l'importanza delle risorse, la necessità di personale sanitario adeguatamente formato, il presidente della commissione sanità Enrico Sostegni ha toccato un punto collegato a queste due tematiche, quello delle liste d'attesa. Sulle liste d'attesa diciamo però che c'è bisogno di rafforzare l'attenzione non solo sull'aumento delle prestazioni ma anche sul governo della domanda, cioè se abbiamo visto ci sono i sistemi dove si è più riuscito a battere liste d'attesa sono quelli nei quali è stata fatta un'analisi direi ingegneristica di quelle che sono le prescrizioni mediche per ogni tipologia di prestazione e il sistema ha fornito quella quantità di prestazione quindi le liste d'attesa in quel caso si formano solo se c'è per una serie di motivi come è stato per esempio il covid sulle visite cardiologiche che ha generato un'iper prescrizione allora è evidente lì si crea la lista d'attesa però se non in maniera ordinaria quelli che hanno fatto questa maniera in toscana sono riusciti a governare mentre laddove l'attenzione sulla prescrizione è stata più bassa le liste d'attesa si sono formate in maniera più significativa è stato più difficile a battere. Potenziare l'integrazione tra l'ambito sociale e quello sanitario è un ruolo maggiore dei rappresentanti del territorio. Questi due dei filoni principali emersi secondo il capogruppo del partito democratico Vincenzo Ceccarelli. Al centro diciamo delle nostre indicazioni stanno il rafforzamento della sanità territoriale una maggiore integrazione tra sociale e sanitario un maggior ruolo anche da parte dei rappresentanti del territorio mi riferisco ai sindaci ad esempio perché noi andiamo ad indicare la necessità rivedendo anche la legge di costituire una società della salute in ogni zona distretto. C'è una indicazione precisa per quanto riguarda la rete ospedaliera che deve essere sempre di più collegata appunto alla sanità territoriale ai percorsi di entrata e di uscita dei pazienti ma deve essere una rete che non va ulteriormente indebolita dal punto di vista anche del numero degli ospedali. E poi il grande tema della digitalizzazione. Italia sostiene il documento degli stati generali della salute un lavoro buono di ascolto che ha portato a confrontare il consiglio regionale con tanti operatori del sistema sanitario per dimostrare che la riforma fatta nel 2015 è una riforma giusta fu molto combattuta io allora ero presidente della commissione sanità un lavoro straordinario che ha messo in sicurezza l'organizzazione del sistema sanitario toscano lo conferma ai vertici dei livelli nazionali come modalità organizzativa grazie anche ovviamente alla qualità dei propri operatori e professionisti ma soprattutto dimostra quando la politica fa scelte coraggiosi e diventano lungimiranti queste poi portano dei risultati positivi l'abbiamo visto sotto il covid adesso c'è da riorganizzare il sistema ulteriormente da migliorarlo rispetto alle risposte nuove che questa pandemia ha fatto emergere nello stesso tempo c'è una consapevolezza che le risorse servono e da lì c'è un tema che noi abbiamo sempre posto fosse stato per noi avremmo avuto anche le risorse del mess se si va a vedere oggi i tassi di interesse che livelli avranno non soltanto adesso ma nei prossimi anni avremmo dimostrato che quelle risorse praticamente le avremmo avuto praticamente in maniera gratuita non ha espresso parere favorevole nei confronti della risoluzione forza italia per il capogruppo marco stella l'analisi è soprattutto politica oggi si è certificata la sfiducia da parte del gruppo del PD nei confronti del governatore Gianni e della sua giunta ma che senso ha mi domando a due anni dalle elezioni e dopo che il presidente Gianni aveva presentato con la sua giunta il programma di governo dove si parlava di sanità fare una proposta di risoluzione degli stati generali si è partiti prima con la crisi di maggioranza rispetto al non assessore poi al sottosegretario poi c'è stata una riunione di maggioranza per il cambio di passo così l'hanno chiamato rispetto al governatore Gianni poi si è sfiduciato la giunta su fidi poi si è continuato sulle infrastrutture ora sulla sanità e domani si scopre che verranno fatti gli stati generali della cultura e chissà magari anche quelli dello sport ce lo dicano chiaro esiste un problema se lo risolvano fra di loro quello a cui noi non possiamo partecipare è un gioco di rimballo fra giunta e partito democratico che lo sostiene sulle spalle dei cittadini ci sono 800 mila persone in lista d'attesa ci sono 300 milioni di euro che devono essere ripianati sui bilanci della sanità le persone non riescono a fare a prenotare una visita e questi del partito democratico del centro sinistra stanno ore a discutere per mettersi d'accordo fra di loro andiamo alle elezioni subito voto contrario è stato espresso da fratelli d'italia che ha presentato un proprio documento di 60 pagine contenente le proposte per la sanità toscana non ci limitiamo a votare conto presentiamo le nostre proposte per una sanità differente che faranno parte del nostro programma di governo da qui ai prossimi anni noi riteniamo che la sanità toscana abbia bisogno di migliore efficienza di una struttura differente non soltanto di più soldi se è vero come è vero che per un ernia inguinale a Careggi si aspettano 208 giorni a Torregalli a tre chilometri di distanza 103 non c'è bisogno soltanto di più soldi c'è bisogno di maggiore efficienza e di un'organizzazione migliore del sistema se è vero come è vero che a Pontedera per una protesi d'anca si attendono 278 giorni ma solamente 20 al San Giuseppe a Empoli che è a 30 chilometri di distanza se è vero come è vero che al San Giuseppe si attendono sei giorni per gli interventi di tumore al colon e a Grosseto se ne attendono oltre 40 quindi c'è bisogno di più efficienza non soltanto di più soldi c'è bisogno di più medici c'è soltanto un piccolo cortocircuito sul quale abbiamo puntato il dito e che ci fa sì che non possiamo votare quel documento il fatto che in questi dieci anni negli ultimi dieci anni se si fa salva la parentesi del governo Conte 1 quello che ha visto al governo 5 Stelle e Lega per nove anni il partito democratico ha governato e non è possibile oggi dire che la colpa è del fatto che al governo nazionale che il governo nazionale ha tagliato o non ha sbloccato l'imbuto formativo al governo nazionale vi era lo stesso partito che ha governato in Toscana motivo per il quale c'è un cortocircuito siamo d'accordo sull'analisi non siamo d'accordo sulla soluzione Contrario all'atto di indirizzo anche il Movimento 5 Stelle è una proposta di risoluzione che ovviamente è stata declinata nella visione della maggioranza che governa questa regione che noi definiremo estremamente tiepida e tardiva per tanti punti di vista tiepida perché gli impegni che si sono assunti sono estremamente generici in alcuni casi mancano di quegli indicatori che secondo noi sono fondamentali molti vengono definiti dal MES che è l'organismo, il soggetto che ogni anno esprime un giudizio sulla qualità del sistema sanitario toscano però per molti altri rimane un'evanescenza delle proposte, degli impegni e la tardività perché molti di questi impegni che adesso sono stati presi all'interno di questa risoluzione sono derivati fondamentalmente da quelle che sono state le proposte che anche il Movimento 5 Stelle ha fatto nella scorsa legislatura e soprattutto manca un'ammissione di errori fondamentali che negli ultimi anni grazie anzi a causa dei tagli lineari che sono stati fatti in molti settori coperti come razionalizzazioni hanno sofferto moltissimi settori della sanità la sanità territoriale, le liste di attesa che invece avevano ricevuto un contributo dal governo con la ministra Grillo, i posti letto che sono stati anche quelli tagliati insomma una sanità che se oggi soffre più del necessario e non è più all'altezza della Toscana Felix di un tempo è colpa anche di alcune scelte che sono state fatte in passato come quella delle maxiasle più volte criticate su cui mai e di come mai si è tornati indietro nemmeno in questa proposta di risoluzione Ci sono alcuni aspetti che meritano di essere rilevati anzitutto il concetto di prevenzione è un concetto di prevenzione che è assolutamente condivisibile più si previene e quindi più si favoriscono anche forme di educazione stili di vita, consumi consapevoli meno si accede al servizio sanitario e questo deve essere l'obiettivo perché il servizio sanitario è comunque sia un costo per l'utenza è chiaro che ci sono altri aspetti poi la questione ad esempio delle aree interne noi abbiamo una Toscana che presenta forti differenze anche rispetto ai servizi sanitari è chiaro che di fronte a una popolazione che invecchia e quindi ha necessità di avere determinati servizi quanto più possibili di prossimità dall'altro però non possiamo anche pensare di sacrificare famiglie che molto spesso vivono in aree fuori dal territorio urbanizzato ma che molto spesso scontano ad esempio l'insufficienza di servizi pediatrici noi abbiamo in Toscana una media di mille bambini a pediatra nelle aree della provincia e questo non è assolutamente accettabile quindi io mi auguro che anche le nuove strutture che dovrebbero arrivare con il PNRR quanto meno siano calibrate su ambiti di servizio ottimali non sfugge poi la questione finanziaria noi dobbiamo assolutamente agganciare la programmazione e l'organizzazione di tutto il sistema a partire dalle ASL fino agli ospedali e tutte le strutture correlate se noi non programmiamo adeguatamente la spesa è impensabile riuscire ad avere un equilibrio di bilancio Decaduta la proposta di risoluzione alternativa presentata dal gruppo Lega una volta approvata la risoluzione di maggioranza La nostra risoluzione che non ci viene permesso di presentarla viene eliminata perché dice è sovrapponibile all'altra ma si basa su degli architravi completamente diversi perché noi vogliamo tre anziché le tre ASL vogliamo le ASL provinciali noi vogliamo che il direttore generale non sia nominato dal presidente Gianni ma sia una concertazione con i territori quindi con i sindaci, con le società della salute con la conferenza dei sindaci noi vogliamo che il CUP sia rivoluzionato perché ci devono essere due agende una di primo accesso che a un certo momento viene preso in carico dai reparti l'altra sarebbe un'accettazione da parte dei reparti quindi una volta che uno è dentro il sistema viene in qualche modo gestito dai reparti quindi non è più una lista di attesa ma è una programmazione a lungo termine Un'interrogazione sulla ciclovia dei Due Mari nel tratto a Retino a presentarla in aula il consigliere della Lega Marco Casucci che ha chiesto chiarimenti sul cronoprogramma della realizzazione del percorso Siamo particolarmente sensibili al tema perché crediamo agli effetti benefici della ciclovia sia per il turismo, in particolare il cosiddetto turismo lento che può richiamare molte persone nei nostri territori sia per la mobilità sostenibile che è un tema che sappiamo essere sempre caldo Noi abbiamo notato che vi è stata una delibera della giunta regionale che ha ridotto prioritaria la tratta Buonconvento Asciano Rapolano Terme e Sinalunga Vorremmo invece sapere per quanto riguarda il tratta a Retino che andrebbe a recuperare la vecchia linea ferroviaria Arezzo, Umbertide e Fossato di Vico Siamo particolarmente interessati e chiediamo un cronoprogramma preciso sia per la progettazione sia per la realizzazione Sappiamo che ci sono stati dei tavoli tecnici in passato tra il comune di Arezzo e la regione toscana vogliamo sapere quali sono le evoluzioni da parte della regione toscana e siamo certi che è la necessità di puntare sulla ciclovia anche per quanto riguarda il territorio a Retino È tutto, questa era la nostra ultima intervista Cronache e Commenti torna la prossima settimana Grazie a tutti Grazie a tutti